Siamo qui con Giorgio Marchesi, attore, e Elio Locascio dell'Associazione Lisca Bianca al Villaggio per la Terra, oggi giornata mondiale della Terra. Perché c'è una barca nel prato di Villa Borghese? Sì, c'è una barca perché abbiamo avuto l'opportunità di raccontare un'avventura ma anche un progetto sociale. L'avventura è proprio quella di Lisca Bianca, che è questa imbarcazione che alla fine degli anni 70 e metà degli anni 80 ha fatto il giro del mondo con un equipaggio straordinario, due pensionati, Sergio e Lice Albeggiani, che alle soglie della pensione decidono di abitare la loro casa galleggiante, Lisca Bianca, per realizzare il sogno di sempre, fare il giro del mondo. Fanno questo giro del mondo e purtroppo dopo tanti anni scopriamo che questa barca sta per essere demolita. Questo loro viaggio era raccontato in un libro, Le Isole Lontane, che è tratto dal diario di bordo di Sergio. E quindi una volta che scopriamo che questa barca, che aveva una storia straordinaria, sta per essere demolita, ecco che lanciamo un progetto sociale, navigare nell'inclusione. E coinvolgiamo i ragazzi del circuito penale, i ragazzi del carcere minoriere di Palermo, dei ragazzi con problemi di dipendenza patologica e dei minori stranieri non accompagnati, con due obiettivi. Da un lato affidare a loro il recupero di questa barca e dall'altro, una volta che questa barca è stata recuperata e di nuovo varata, farne delle attività di vela solidale e di turismo sostenibile. Giorgio, tu hai letto dei brani da questo libro. Raccontaci un po' com'è andata. Quali brani avete scelto? Un'idea molto romantica, partire con una barca, Isole Lontane, però c'è di più. Sì, c'è molto di più. Io e Elio ci siamo conosciti in questa occasione e quando mi ha mandato questi brani da leggere mi sono subito innamorato di questa storia. Abbiamo cercato di seguire le motivazioni che li hanno portati a fare questa scelta, l'intervista a Licia che racconta come è andata questa avventura e soprattutto un accenno anche all'utilizzo che poi è stato scelto di fare per questa barca e soprattutto la seconda vita che ha avuto per cui probabilmente sarebbero stati molto felici Sergio e Licia per la decisione che i figli hanno preso appunto di affidarla e di lasciarla a ragazzi che l'hanno potuta ricostruire e adesso ci possono viaggiare avendo avuto delle esperienze drammatiche alle spalle. Però insomma in generale questa appartiene a una storia in certi momenti commovente ma soprattutto energizzante ecco forse vorrei prendere questo spunto perché dà l'idea appunto che non c'è un età, non c'è un momento della vita in cui bisogna esitare, bisogna sempre lanciarsi e provare a lanciarsi verso sfide nuove e questo sia dal punto di vista sociale sia nella nostra vita di tutti i giorni e sia per le grandi sfide che affrontiamo in questo appuntamento, in questo incontro. Questa storia è perfetta per l'ecologia integrale questo termine che ha lanciato Papa Francesco e che sottintende a grandi linee che l'ambiente e la società e la solidarietà sono strettamente legate. In quello che tu hai raccontato prima c'è quasi tutto di quello che dice l'ONU cioè c'è l'eguaglianza, c'è il riscatto sociale, c'è il riciclo dei materiali c'è il mare che è fondamentale per l'ambiente durante questo processo di lavorazione della barca l'inclusione di tutti questi ragazzi quali sono i momenti che ti sembrano, sono stati più emblematici? il cercare di coinvolgerli, la passione che ci hanno messo, il risultato finale io immagino l'orgoglio di queste persone. Penso che un po' l'insegnamento è quello anche rispetto a quello che diceva Giorgio che se uno ha un sogno deve fare di tutto per realizzarlo e deve avere coraggio, deve essere determinato deve essere passione ma anche deve prepararsi bisogna prepararsi il faglio del mondo così come i ragazzi hanno imparato qualcosa nel restaurare l'isca bianca e poi c'è quest'idea che si può sempre cambiare vita di fatto l'isca bianca è una metafora rispetto al progetto sociale perché prendersi cura di questa barca che aveva un valore simbolico enorme significa anche aver dato a questi ragazzi la possibilità di prendersi cura di se stessi e di poter anche avere maggiore fiducia nel proprio cambiamento. Giorgio, chiudiamo, ti chiedo un'improvvisazione alle nostre spalle ci sono 17 numeri un'improvvisazione ambientale ci sono 17 numeri che sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU sono un po' la guida di questo villaggio 2018 sono gli obiettivi per l'ambiente e soprattutto per il progresso umano che sono stati fissati dall'ONU quali ti colpiscono di più come persona prima che come attore? Ma allora come dicevi tu poi sono tutti legati mentre dicevi hai colto una cosa importante perché nella loro storia c'è anche nella storia di Licea e Sergio c'è anche l'abbandono alla civiltà dei consumi parla di un idiota usa un aggettivo molto giusto nell'assurda società dei consumi e quindi questa è anche una forma di libertà quindi penso che sicuramente i consumi e i produzione responsabili possono essere fondamentali per capire anche quello che c'è veramente che è importante sia perché l'acquisto è fondamentale per decidere sia delle tendenze economiche sia anche per la situazione climatica credo per cui insomma forse questo è uno che mi colpisce di più ma ripeto sono tutti poi avendo dei figli ma anche chi non ha figli pensate ai figli degli altri pensiamoci insomma al futuro che lasciamo a chi verrà dopo di noi Io vi ringrazio L'Iscabianca rimarrà qui per tutti e cinque giorni? Sì rimane qui e poi soprattutto per chi ha la possibilità di venire a Palermo è ormeggiata al porticciolo della Cala e se volete potete anche seguire tutte le altre attività che porta avanti l'associazione appunto il sito è www.liscabianca.com dove oltre la storia della barca ci sono tutte le attività che stiamo facendo di inclusione sociolavorativa rivolta a persone con fragilità sociale Grazie e benvenuti al villaggio Grazie